Caro amico ti scrivo, così distracco un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sacchi vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo né mai. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale, e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, e anche gli uccelli faranno il ritornio. Buona fine, buon nuovo inizio per l'anno che verrà.